Giornata storica per la Canicati sportiva. Oggi pomeriggio alle 15 allo stadio Razio Raiti di Biancavilla in provincia di Catania in programma la storica finale di Coppa Italia d'eccellenza a memoria al Gianfranco Provenzano tra il Canicati allenato da Nicola Terranova e Marina di Ragusa, formazione che milita nell'altro girone della capolista a pari punti col Biancavilla. Una caravana di tifosi biancorossi è pronta a sbarcare allo stadio Raiti per incitare gli 11 leoni in campo e vincere la Coppa regionale, trofeo che lo scorso anno è stato vinto dall'Icata. Vincere la Coppa non significa accedere direttamente in Serie D come accade per altre competizioni in categorie più basse ma partecipare poi alla fase nazionale con squadre della Calabria e della Campania fino alla finale, la conquista del trofeo italiano, quello sì dà diritto alla Serie D. Ma il cammino è lungo e per il momento si pensa alla finale regionale. Il morale in casa Canicati è stato depresso dalla sconfitta nel derby con l'Icata ma non c'è stato nemmeno il tempo di analizzare la gara che già il tecnico ha dovuto preparare la sfida col Marina di Ragusa. Nicola Terranova ha archiviato la prima sconfitta dopo 15 risultati utili consecutivi, una sconfitta che brucia ma che non cancella sacrifici fatti fin qui, ha commentato Terranova. Complimenti al pubblico ricatese a Licata che sta facendo un campionato straordinario con numeri pazzeschi, ha aggiunto l'allenatore del Canicati. La sconfitta deve insegnarci a rialzarci e reagire, deve essere lo stimolo delle nostre prossime vittorie. Si interrompe una striscia positiva di 15 risultati utili consecutivi, bisogna ripartire più forti di prima cercando di non ripetere gli errori commessi nelle ultime partite. Adesso è il pensiero a Biancavilla per scrivere la storia, la storia della canicati calcistica. La Coppa è un nostro obiettivo, vogliamo vincerla. Anche i ragusani vogliono vincere la Coppa e bissare. Il risultato è l'anno scorso, quando vinsero il trofeo, Orazio Sino, cioè la Coppa Italia di promozione. Il direttore sportivo Cesare Sorbo dice, è un appuntamento con la storia, speriamo di vincere e di portare a casa la Coppa. Sono convinto che ce la faremo. Il Canicati è un osso duro e la partita è apertissima. Squadra robusta e prolifica perché ha subito appena sette gole e ne ha segnati 32. Mentre il Marina ha un ruolino di marcia meno eccellente avendo incalzato 19 gole e ha segnato 34 reti. Due le partite perse dal Canicati, quattro dal Marina. Il rosso-blu possono contare su un organico più ampio in termini di qualità. Il tecnico Salvatore Utro ha recuperato al meglio i tre alfieri della squadra. Il centrale Ciccio Vindigni, il centrocampista Gaspare Pellegrino e l'attaccante Nicola Arena. Una squadra che può contare su un portiere in gran forma come Di Carlo, autore di una grande prestazione contro il Giarra e un attacco dalle tante risorse a cominciare da D'Agosta, capace sempre di inventare qualcosa. Utro conferma il 4-4-2 e partirà con i senatori per poi operare gli opportuni cambi a seconda dell'andamento della gara. L'allenatore del Canicatini Nicola Terranova schiererà la formazione tipo con il 3-4-3. Dirige all'incontro il signor Michele Giordano della sezione AIA di Palermo, assistito da Giuseppe Minutoli di Messina e Salvatore Damiano di Trapani. Grazie.